Buonasera, buonasera da onda di Gino, apertura subito la notizia del giorno, deroga per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Passa nella quinta commissione del Consiglio regionale la risoluzione presentata dalla consigliera Marianna Scoccia senza il voto della Lega. Sentiamo tutto nel nostro servizio. La Regione Abruzzo chiederà la deroga per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Nella quinta commissione del Consiglio regionale starà approvata la risoluzione presentata dalla consigliera regionale dell'Udc Marianna Scoccia che impegna il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l'Assessore a Ramo Nicoletta Verì a retirare la deroga per la salvaguardia del reparto di paternità finito nel vortice della riorganizzazione. La Scoccia ha trovato l'appoggio del PD e del Movimento 5 Stelle nelle fila della minoranza, mentre per la maggioranza la Domainforte e Fratelli Italia, oltre al gruppo di riferimento. Non ha preso parte la votazione la Lega, ritenendo che l'Assessore Verì già si sta attivando per la richiesta della deroga, a differenza di quanto aveva annunciato nell'incontro con i sindaci quando voleva potenziare il reparto per toccare la soglia dei 500 parti. Dalla Lega quindi né un voto a favore né uno contro. Il Noi è arrivato invece all'altra risoluzione presentata dall'ex Assessore Silvio Paolucci, che oltre a chiedere la deroga, puntava sulla revisione del DM70 e lì anche il Movimento 5 Stelle non ha votato a favore. Ma la risoluzione di Paolucci dà comunque forza a quella presentata dalla Scoccia, che alla fine, dove aver combattuto con le unghie e con i denti, è passata in commissione. Grande gioia e soddisfazione per il voto favorevole alla risoluzione che oggi ho presentato in commissione sanità a riguardo alla salvaguardia al punto nascita di Sulmona. Una risoluzione che è passata con il voto di tutti, eccetto della Lega, che ha deciso di abbandonare l'Aula. Ovviamente esprimo il mio rammarico per questo gesto. Io tengo a ribadire la mia forte volontà a sostegno del territorio di Sulmona e dell'intera Valle Peligna. E ora ci spostiamo a Scanno. Una bimba si sente male, ma la guardia medica non può intervenire. Allora il nonno chiama i carabinieri. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Una bambina di tre anni si sente male e la guardia medica non può intervenire. È accaduto ieri mattina a Scanno, dove sono dovuti intervenire i carabinieri e il sindaco per riportare la calma. All'origine dell'atteggiamento del medico ci sarebbe la direttiva emanata dalla ASL, che vieta visite ambulatoriali, consentendo alle guardie mediche di visitare a domicilio i pazienti solo per interventi improcrastinabili. La guardia medica quindi può garantire l'emergenza e non le visite ambulatoriali. Fatto sta che la bambina accusava difficoltà respiratorie e il nonno ha chiamato i carabinieri. Ne è nata una discussione, al termine della quale la bambina e starà comunque visitata con la prescrizione di farmaci anti-influenzali. Proprio in queste ore, scriverò la ASL, perché si mette a mano a problema, interviene il sindaco di Scanno, Giovanni Mastro Giovanni. Proprio su questa battaglia, dove aver già effettuato due giornate di sciopero, le guardie mediche hanno annunciato altri tre giorni di astenzione dal lavoro, il 17, 18 e 19 luglio. La direttiva dell'azienda sanitaria non consente infatti un margine ampio di intervento. Nei piccoli centri, già posti a distanza dall'ospedale di riferimento, diventa tutto più difficile. Botte sangue all'annunziata, dai fischi ora si passa alla reticenza, oltre 20 giorni di promiosi per il giovane ferito. Facciamo il punto nel nostro servizio. Non se la caverà con qualche giorno di riposo il giovane sulmonese, che è rimasto coinvolto nella notte fra sabato e domenica nella Maxilite davanti all'annunziata, in pieno centro storico a Sulmona, sfociata poi in una vera e propria aggressione. Per lui si è reso necessario il trasferimento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove dovrà essere sottoposto un intervento maxillo-facciale in seguito alle scoriazioni e alle lesioni, che è riportato da quella violenta lite che è acceso il weekend. Il refertore pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove il giovane è stato preso in carico subito dopo la rissa, parla di 25 giorni di prognosi. Non uno scherzo, quindi, anche se quella notte è violenta, nonostante numerosi testimoni presenti, deve ancora essere ricostruita. La squadra anticrimine del commissariato PS di Sulmona, diretta dall'ispettore superiore Daniele Lerario, indaga a tutto campo. Nelle ultime ore è stato ascoltato il giovane rimasto ferito, che ha rilasciato la sua versione, ora da riscontrare con l'ascolto dei testimoni e dei proprietari dei due locali, ma anche con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nei bar, che al momento non sarebbero utili agli inquirenti. La violenta lite sarebbe sviluppata in tre fasi. Da via Pantaleo si è arrivati sulla strada che collega i due locali del centro, per arrivare poi sulla scalinata dell'Annunziata, piena di gente. Almeno una cinquantina di persone avrebbero assistito alla scena senza intervenire, fortemente scosse e spaventate, per lo svilupparsi dell'aggressione. Poi, dopo il lancio di bottiglie di vetro recuperate nei pressi di via Pantaleo, non dovrebbero essere venduti fuori dal locale, quattro dei cinque protagonisti della lite si sono allontanati, mentre il giovane resta a disposizione di polizia e 118 che arrivano sul posto e la volante le 113 è stata accolta fra fischi e applausi. Eppure, nessuno degli avventori ricorda nulla o dice di non aver visto nulla. Resta il fatto che episodi come questi sono da condannare perché discussioni per futili motivi non possono spezzare la tranquillità del sabato sera, mettere in agitazione che si vuole concedere un drink o un momento di relax. Tutto ciò non è più tollerabile. E ancora cronaca Malore alla guida auto contro muro in viale della stazione a Sulmona. Vediamo nel nostro servizio. Accusa un Malore per del controllo del mezzo, incidente poco prima delle 12 lungo il viale della stazione di Sulmona nei pressi del bivio che porta a Campo di Fano. Protagonista della vicenda è un sulmonese di 62 anni che mentre era alla guida è stato colto da un improvviso Malore perdendo il controllo del mezzo. L'auto, una panda, è finita contro il muro mentre il conducente che era a bordo avrebbe sbattuto la testa al parabrezza. Sono stati alcuni passanti, gli automobilisti, a contattare il centralino del 118. L'ambulanza è quindi giunta sul posto per trasportare 62enne all'ospedale di Sulmona per tutti gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Certo che all'inizio sono apparse gravi. Ora si sta sottoponendo a tutte le cure mentre per rilevi di rito è intervenuta la polizia. E non è stato l'unico caso perché oggi il grande caldo si è fatto sentire. Accusa un malore e si accascia a terra. È accaduto poco fa un ciclista nella strada che collega Sulmona a Prato la Peligna. Dopo i primi soccorsi prestati dai passanti l'uomo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. È il secondo caso che si verifica nel giro di una giornata. Il grande caldo ha lasciato il segno per le strade peligne. Sul posto, per rilevi di rito, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona guidata dal capitano Maurizio Dino Guida. Mentre gli automobilisti e passanti si sono fermati in strada per rianimare il ciclista e hanno allertato il centralino del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale e ora tutti stanno facendo il tifo per lui perché l'incidente di percorso si chiuda con un lieto fine. Il traffico ha subito rallentamenti. E non si può stare nemmeno tranquilli nelle aule di giustizia perché i furti adesso avvengono dovunque. È accaduto ad esempio questa mattina l'avvocato Katia Puglielli è andata al Tribunale per le Odienze e gli hanno rubato la toga. Sentiamo nel nostro servizio. Non si può stare più tranquilli neppure in tribunale. Il rischio di essere derubati è sempre dietro l'angolo e a quanto sembra anche nelle aule di giustizia. Questa mattina ad esempio l'avvocato Reforo di Sulmona Katia Puglielli si è recata al Palazzo di Giustizia per le Odienze del Giorno ma quella toga a cui era tanto affezionata li è stata rubata. L'aveva appoggiata su un banco dell'aula 2 ma poi il tempo di dare un'occhiata a carte e documenti che la toga è sparita. L'avvocato ha fatto partire tutte le ricerche del caso e ha girato in lungo e in largo il tribunale in ogni stanza, in ogni piano, ma della sua toga nessuna traccia. Ha contattato anche tutti i colleghi che avevano udienza con lei lo stesso giorno. Oltre al valore commerciale, quello che fa male è il valore affettivo. Mi hanno rubato l'identità, denuncia l'avvocato Puglielli. I furti sono sempre dietro l'angolo, come detto, ma stride che questa volta un furto è stato commesso in un luogo dove solitamente viene condannato. E ora l'edilizia scolastica Oquasi, nuova caldaia nella scuola chiusa. Parliamo della scuola Masciangeli, approvato il progetto ma i lavori tengono tutti con il fiato sospeso. Facciamo il punto nel nostro servizio. Passi in avanti per la sostituzione della centrale termica mentre per l'avvio dei lavori di ristrutturazione il conto alla rovescia sembra ricominciare ogni volta da capo. L'istituto Masciangeli resta l'osservato speciale in queste ore con ditte comune che stanno definendo la valutazione delle riserve dopo l'accordo raggiunto nelle scorse settimane. Ma quel cantiere che tutti i sulmonesi hanno atteso e immaginato soprattutto le famiglie degli studenti che non abbassano la guardia non è stato ancora inaugurato. Fra sdegno e rassegnazione tutti restano con il fiato sospeso. Nel frattempo l'aggiunta comunale di Palazzo San Francesco con delibera numero 125 del 27 giugno ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione della centrale termica della scuola elementare Luciana Masciangeli redatto dall'architetto Antonio Giovannucci per un importo complessivo di 110.000 euro. L'aggiunta pur è stabilito di far fronte alla spesa con contributo della regione Abruzzo per 100.000 euro e fondi propri di bilancio per 10.000 euro. Insomma la scuola è chiusa da anni e inagibile ma prima si cambiano caldaia e impianti energetici. Per i lavori veri e propri aveva precisato l'assessore comunale Mauro Tirimacco ci siamo occupati di rimuovere tutti gli ostacoli per consentire l'apertura e la chiusura del cantiere in tempi certi e la conseguente restituzione della scuola alle famiglie. Nella precedente delibera di giunta quella che dava l'ok ai lavori si faceva riferimento all'accordo siglato fra ditte comuni a fine maggio quando fu pattuito la rimodulazione del progetto tenendo conto delle migliorie da apportare delle opere di completamento utenze e caldaie dopo l'esame delle criticità riscontrate nell'edificio la richiesta dei fondi aggiuntivi da inoltrare l'OSRC di Fossa oppure da estrapolare dall'attuale progetto esecutivo verificato la liquidazione delle prestazioni per la progettazione e la direzione dei lavori nelle condizioni offerte dall'impresa in serie di gara e stabilite nel contratto. La speranza è che questa sia davvero la volta buona tenendo conto che non troppo lontano da Viale Mazzini già da domani o al massimo giovedì potrebbe avrire il cantiere delle Capograssi. E ora il genio civile la riorganizzazione a discapito di Sulmona e Avezzano allora il consigliere regionale Giorgio Fedele rilancia la battaglia. La nuova organizzazione degli uffici del genio civile certifica una scelta politica ben chiara della giunta di centrodestra l'allontanamento dei servizi dei cittadini dalla Marsica e della Valle Peligna. L'ufficio sismica di Avezzano farà la stessa fine dell'ufficio sismica di Sulmona venendo accorpati agli uffici dell'Aquila. Una decisione completamente sbagliata che mette in mostra con i fatti come il governo regionale non tenga conto delle esigenze dei singoli territori. Lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele che rilancia la battaglia aperta nei mesi scorsi dalla consigliera regionale Marianna Scoccia in un'intervista rilasciata a Onda DG. Non accetto spiega Fedele che mi si parli di efficientamento dei servizi. L'esperienza passata ci insegna che allontanando gli uffici dal territorio la qualità del lavoro peggiora. Non solo con ogni probabilità siamo di fronte a primo passo verso la loro chiusura definitiva conosciamo fin troppo bene le dinamiche della pubblica amministrazione e all'eliminazione della posizione organizzativa cioè il soggetto incaricato di gestire l'ufficio segue sistematicamente lo smantellamento di quel poco che rimane. Per il consigliere lo spostamento dei servizi sarebbe un danno molto grave che si materializza in un'area ad alto rischio sismico così a partire da mese di giugno ogni cittadino che volesse avere un dialogo diretto con il responsabile dell'ufficio sismica dovrà recarsi di persona all'Aquila con tutte le problematiche che ne susseguono. Favorevole o contrario il comitato non snam chiede al presidente della dimsitere d'amore in abruzzo Fabio Spino Sapingue di schierarsi e continua la guerra chiamiamola così a distanza il nostro servizio. DMC favorevole o contrario a progetto snam se lo chiede il comitato non snam che stigmatizza il clima di oscurantismo tirato in ballo nei giorni scorsi da presidente DMC Fabio Spino Sapingue in merito alla famosa conviviale alla quale ha preso parte anche la snam e il braccio di ferro a colpi di comunicati stampa va avanti il presidente della dimsitere d'amore parla maldestramente di clima di oscurantismo a proposito della battaglia contro la centrale mettono tutto snam forse si riferisce a se stesso visto che dopo oltre 11 anni che problema viene dibattuto la sua posizione a riguardo è ancora oscura desidereremmo semplicemente sapere se egli è favorevole o contrario al progetto della snam attuale dal comitato che torna poi sulla necessità di un confronto pubblico con la snam l'opposizione dei cittadini all'inutile e devastante progetto della multinazionale non è basata su un'ostilità preconcetta ma è fondata su argomentazioni molto serie e rigorose come ha dimostrato il convegno scientifico svoltosi il 27 giugno scorso a Palazzo San Francesco e che ha visto la partecipazione di esperti delle varie materie sismicità cambiamenti climatici energia aspetti sanitari e giuridici ma sia il presidente della dimsì che la snam si sono ben guardati da portare il loro punto di vista nel convegno che era aperto la partecipazione di tutti se la snam vuole rendere un servizio alla democrazia e alla trasparenza abbandoni le posizioni tenute in questi anni e accetti finalmente un confronto pubblico a tutto campo con i cittadini e le istituzioni aspettiamo un suo segnale conclude il comitato uno snam no alla zona pep sia a Porta Pacentrana il monumento che ricorderà il bimilenario di Ovidio trova una collocazione il servizio con la nostra raccolta di opinioni il bimilenario sul giardino di Porta Pacentrana è una scelta giusta? parlo della location beh giusto l'importante è che si è fatta certo un po' più centrale non sarebbe sbagliato però se si è stato scelto così passi giusto forse dovrebbe essere messo in un posto un po' più pubblico migliore insomma dove comunque sarebbe visibile da più persone ovviamente io non intendo contestare l'eventuale decisione ma lo collocarei altrove ma potrebbe andare potrebbe andare almeno anche come segnale che si fa qualcosa perché non si sta facendo nulla anzi si continua a spogliare sul Mona oggi ho letto per esempio il Genio Civile che è stato verrà trasferito insieme ad Avezzano a Lago sì perché diciamo un passaggio importante potrebbe anche andare là ci sarebbe un po' cazzo sì la piazza Caribaldi la piazza più importante potrebbe anche andare là il monumento per il bimillenario di Ovidio trova una collocazione la giunta comunale con apposita delibera ha autorizzato il posizionamento dell'opera nel giardino di Porta Pacentrana una collocazione che nelle scorse settimane ha fatto discutere tant'è che qualche componente della giunta voleva trovare un'altra sistemazione ma alla fine l'esecutivo comunale ha dato il via libera all'unanimità l'iniziativa è stata interamente sponsorizzata e finanziata dalle società del gruppo Pingue Conad un regalo alla città per ricordare il bimillenario Ovidiano il bozzetto della statua è stato realizzato dal designer Gaudenzio Ciotti autore del logo vincitore del concorso di idee lanciato dal comune di Sulmona per il bimillenario Ovidiano inizialmente si pensava a una collocazione presso la rotatoria della zona PEP ma poi il parere contrario della polizia locale ha indotto gli amministratori comunali a individuare una soluzione alternativa il rischio era quello di provocare incidenti stradali lo stesso però non è avvenuto per il grande albero posizionato in via Lamaccio intanto il centro studi e ricerche Vittorio Monaco si organizza in assemblea e pensa al decennale della morte dell'indimenticabile dirigente scolastico che l'hanno frigida si è tenuta a Sulmona nella sala azzurra della camerata musicale di Sulmonese l'assemblea annuale dei soci del centro studi e ricerche Vittorio Monaco per noi è una giornata importante per l'associazione centro studi e ricerche Vittorio Monaco perché l'assemblea annuale di tutti i discritti si discusse deliberato su un nutrito ordine del giorno relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno facendo una verifica anche sentendo i pareri le indicazioni le critiche dei nostri iscritti dei nostri soci e si comincia a programmare il lavoro per il prossimo anno autunno 2019 fino all'estate del 2020 si è discusso e deliberato sul bilancio chiuso al 31 disembre 2018 ed infine un argomento molto importante l'iniziativa per il decennale della scomparsa di Vittorio Monaco intanto è stato annunciato che in corso la campagna tesseramento 2019 tutti i soci possono rinnovare l'iscrizione inoltre amici ed estimatori delle attività del centro possono richiedere l'iscrizione come nuovo socio per il socio ordinario la quota di iscrizione è di 20 euro l'anno socio sostenitore 50 euro mentre per i soci studenti soltanto 5 euro intanto la giostra cavalleresca entra a contatto un po' con tutti i quartieri della città ma anche con le attività ancora Gaetano Trigini una simpatica iniziativa si è tenuta nei giorni 28 e 29 giugno al centro acquisti il nuovo borgo con una spesa minima di 10 euro fatta in uno dei 30 negozi del centro si può partecipare ad un gioco due dame in costume verità giovanissime presentiano un punto allestito con immagini della giostra cavalleresca di Sulmona presente l'organizzatrice Emma Carpagnini il cliente in possesso di scontrino può estrarre una busta e poi vederne il contenuto all'interno della busta può esserci un foglietto con la scritta hai vinto i vincitori hanno titolo a biglietti gratuiti per assistere all'evento giostra abbiamo avuto l'occasione e l'opportunità di assistere alla premiazione di due vincitori vediamo vediamo se hai vinto il biglietto si può vincere sia per la giostra cavalleresca e sia per la giostra cavalleresca di Europa eccolo qua fortunata il giorno il 3 agosto va in biglietteria e ti danno il biglietto ottimo grazie ah ecco ho pescato ho vinto bellissima e quant'era l'anel di senso 26 la promozione si terrà anche venerdì 5 e sabato 6 luglio a partire dalle ore 16 e anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia a fronte di saracinesche che si abbassano di negozi che chiudono si getta il cuore oltre l'ostacolo accade in via da Rocco di Piglio a Prato la Peligna fuochi d'artificio tanti applausi taglio del nastro per inaugurare il nuovo sushi ristorante il secondo che apre nel giro di poco tempo proprio sullo stesso territorio comunale perché un altro è collocato nella frazione bagnaturo di Prato la Peligna si parte con una promozione speciale per avvicinare poi sempre più i clienti farli sentire a casa nel nuovo ristorante punto vendita è un'apertura che conferma che questo tipo di mercato si sta espandendo a macchia d'olio sul territorio e che la crisi si vince solo investendo ai gestori il nostro personale in bocca al lupo per allo sport perché la SD Basket Centro Abruzzo è tra le 13 squadre che parteciperanno al torneo internazionale Under 13 di Basket ce ne parla nel servizio Barbara Delemore tra le 12 squadre che partecipano alla settima edizione del torneo internazionale Under 13 di Basket Brindisi porta il Salento e che arrivano dalla regione Puglia nonché dall'estero dall'America dall'Algeria e dalla Nigeria c'è anche la squadra ASD Centro Abruzzo Sulmona con il coccio Alessandro Raida e l'accompagnatore Cristian Cavallaro organizzato dalla ASD Robur Brindisi con il patrocino del comune di Brindisi e Mesagne Regione Puglia provincia di Brindisi Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni anche quest'anno l'evento è stato riconosciuto di rilevante importanza dalla Presidenza del Senato della Repubblica dal Ministero dell'Interno e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che hanno concesso per la finalità della manifestazione legata alla lealtà rispetto alla considerazione l'uso del logo araldico della Polizia dei Carabinieri e ieri mattina la presentazione ufficiale dell'evento e i giovani atleti pelini nell'entusiasmo generale hanno avuto una inaspettata sorpresa a rappresentare l'Arma dei Carabinieri è stato il colonnello sulmonese Giuseppe De Magistris comandante provinciale dei Carabinieri di Brindisi lo sport è free play lo sport è rispetto dell'avversario lo sport è rispetto delle regole quindi quale migliore occasione per l'Arma dei Carabinieri che qui oggi rappresento perché l'evento ha il patrocino del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale migliore occasione per ribadire i concetti di rispetto dei nomi quindi più ampi della legalità se non questo quindi che vinca il migliore per i ragazzi e che questo torneo sia prodromico a nuovi successi nella vita per tutti quanti a leggere il giuramento dell'atleta un emozionato cestista sulmonese Andrea Dicenzo Comento di portare sempre con me l'esperienza di conservare il tuo riscotto che tanti uomini si conosciano abilicini prometto di giocare di divertirmi e che la qualità è utile di risultare questo movimento per la vita aiutandoci a crescere in pace e in modo senza sofferenza e guerre siamo ragazzi lasciateci divertire una settimana densa di impegni agonistici e non solo quella che attende la squadra sulmonese che ancora una volta si rende protagonista grazie al lavoro costante riconosciuto alla dirigenza della ASD Centro Abruzzo capitanata da Loredana la Civita anche in eventi di interesse internazionale chiudiamo quello di Qualtigi domande segnalazioni curiosità sono notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda Rivo con la diretta live di Onda Rigi vediamo quali sono arrivati quali commenti sono arrivati molto bene per il monumento del minario di Ovidio certo non sarebbe stato male una posizione più centrale ognuno alla sua idea continuate a scriverci sui social vi ricordo dopo di noi Abruzzo Notizie è il punto ma come ogni martedì non possiamo non chiudere senza l'aforisma del giorno è davvero tutto per questa edizione Onda Rigi torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti una buona serata con solo appuntamento del martedì con l'aforisma del giorno ci colleghiamo subito con l'uomo del martedì Carlo Di Ruscio per sapere qual è l'aforisma scelto soprattutto a quale notizia è associato buonasera Carlo buonasera Andrea e buonasera a tutti i tenei spettatori allora l'aforisma dell'azienda di cui ho già letto questo lo traduco piano piano su un mona paravolo del paese delle marionette andò si mettono prima le scarpe e poi le caucette traduco nel paese dei borattini si mettono prima le scarpe e poi i calzini mi riferisco al fatto che stiamo trasformando su un mona nel paese degli eventi al contrario alla scuola Lasciangeli hanno sistemato la caldaia il piano termico e poi eventualmente si faranno i lavori di risotturazione penso che andava fatto prima la risotturazione e poi la caldaia l'altra volta hanno messo i cavalli e poi hanno girso il paese dell'asero cioè stanno succedendo delle cose che lui gli eventi successivi avvengono prima degli eventi che dovrebbero avvenire prima di essi insomma attravi attravi la che è attravi Grazie a tutti.